Più di 600 persone sono state arrestate negli ultimi 5 giorni di proteste per la crisi climatica nel centro di Londra, secondo fonti della polizia. Il movimento sociopolitico Extinction Rebellion contro i cambiamenti climatici ha ricominciato a manifestare a pieno regime dopo che le proteste erano state in gran parte sospese a causa della pandemia. La folla ha marciato su Parliament Square, bloccato strade ed organizzato un sit-in di fronte a Buckingham Palace. Le proteste climatiche si sono estese in tutta Europa. Grossa partecipazione popolare si è infatti registrata anche a Copenhagen in Danimarca, dove è stata creata una sorta di catena umana. Quest'anno volevamo fare una marcia proprio come una volta, riferiscono gli organizzatori, ma a causa del coronavirus avevamo bisogno che fosse sicura. Ecco perché abbiamo creato questa catena. Imponente manifestazione di piazza anche a Varsavia, in Polonia. Le recenti proteste in favore del clima hanno dimostrato che la gioventù europea è sempre più impegnata nella lotta contro il riscaldamento globale.